Ciao a tutti. Nel buddismo esiste il concetto di reincarnazione? Bisogna analizzare bene il termine, perché qua in Occidente molte persone pensano, credono che nel buddismo esista il termine di reincarnazione, esista un termine che significa reincarnazione e hanno però una visione completamente distorta dall'insegnamento del Buddha. Cioè, se si parla con degli occidentali, anche che credono nel buddismo, hanno un concetto di reincarnazione, come dire, che da un certo punto di vista garantisce una continuità individuale, no? Cioè, vedono la reincarnazione come un modo per salvaguardare la propria individualità. Cioè, nel senso, io sono io, Massimo Taramasco, quando morirò, la mia anima, che io mi ricordo esattamente così com'è, insomma, si trasferirà da un'altra parte e da quest'altra parte riprenderà a fare esperienze, eccetera. Ma viene mantenuto una sorta di concetto di individualità. Invece non è assolutamente quello che ha insegnato il Buddha. Cioè, quest'anima immortale non esiste nel buddismo. Nel buddismo tutto si trasforma e quindi anche la nostra anima, quello che poi nel buddismo non viene chiamato anima, viene chiamato corpo molto sottile, mente molto sottile o continuum mentale. Che cos'è, quindi, che passa da una vita all'altra di me? Allora, intanto dobbiamo tenere presente questo, che nulla finisce. Nulla finisce perché anche il corpo fisico, certo, non esiste più in queste forme, ma andrà a esistere in altre forme. Cioè, come dire, diventerà comunque energia. Se vengo cremato, diventerò il corpo fisico, diventerà energia termica, se vogliamo, e quindi si diffonderà nell'universo. Ma anche se uno viene seppellito, insomma, qualunque cosa succede, si trasforma in qualcos'altro. Quindi se voi ci pensate, nulla resta simile a se stesso. Un fiore, una volta che muore, non è che sparisce completamente, cioè diventa qualcosa d'altro. Quindi è il concetto sempre di trasformazione che è presente nel buddismo. Comunque il corpo come individualità, diciamo, ovviamente finisce e anche la nostra mente finisce. Cioè, noi purtroppo siamo abituati a identificare noi stessi con la nostra mente, con i nostri pensieri. E questi sono legati al nostro corpo. Non ci saranno più, perché sono legati al nostro corpo da un organo che si chiama cervello. E qui noi funzioniamo in questo modo soltanto perché c'è il cervello che funziona in questo modo. Pensate ad esempio semplicemente a persone che, ne so, che prendono sostanze stupefacenti o semplicemente si fanno una sborgna, come dire, il cervello e i comportamenti vengono alterati. Ma questo non significa... quindi ragionano in modo diverso. Oppure pensate a una persona che abbia una malattia, un ictus, piuttosto che un'emologia cerebrale, vive in modo completamente diverso. Cioè, quando il cervello non funziona più, le cose funzionano in modo diverso. Quindi c'è un cambiamento, no? Ma anche solo squilibri ormonali possono portare a cambiamenti dell'umore, a cambiamenti... cioè, la persona può essere una persona che si manifesta in modo completamente diverso. Cioè, questa mente che noi siamo abituati a chiamare mente, che pensiamo che sia quello che si rincarna, non è assolutamente così. È strettamente collegata alla parte fisica. E quando la parte fisica, così com'è, non esiste più, la mente, così com'è, non esiste più. E poi esiste anche la parte energetica. Nella tradizione buddista finisce anche quella di esistere, perché anche quella è collegata comunque al corpo. Cioè, i chakra e tutta la parte energetica sono comunque strettamente collegati al corpo, fanno parte del nostro corpo, anche se è su un piano diverso. Così come la nostra mente molto sottile, che contiene tutte le emozioni non manifestate. Quando il corpo si esaurisce, si esaurisce anche lei, c'è poco da fare. Che cos'è? Allora diceva, ma cos'è che passa? E passa qualche cosa con la quale purtroppo noi spesso non siamo, anzi, quasi mai siamo in contatto. Cioè, passa quella nostra parte che manco sappiamo di avere. E cos'è questa parte? E che tra l'altro si trasforma sempre. Sono le impronte più profonde del nostro essere. Ma del nostro essere non da questa vita, da infinite vite, da infinite esperienze. È quella parte che è collegata con tutto il resto. Quindi sono tutte le esperienze che abbiamo fatte da un tempo senza inizio. Sicuramente la nostra vita in questo momento dello spazio-tempo ha contribuito a modificare, perché si sono aggiunte esperienze. Ma la nostra il nostro continuum mentale è qualcosa di molto più profondo di noi stessi. Comprende anche noi, ma è qualcosa di molto più vasto. Non possiamo definire... cioè, sono impronte molto molto profonde che passano di vita in vita. E certo, passano le qualità. Le qualità dentro di noi ci sono come semi. Magari non si sono manifestati. Un po' come se pensiamo al seme di un fiore e vediamo, non so, il seme di un fiore dentro un vaso. Esiste il fiore o non esiste? Esiste allo stato potenziale. Se quel seme lì verrà innaffiato, verrà concimato, quando ci saranno le condizioni, si manifesterà. Il fiore si rimanifesterà. Quindi nel buddismo potremmo utilizzare il concetto... tra l'altro il concetto di reincarnazione prevede anche una carne. Mentre secondo gli insegnamenti di Buddha si può parlare di reincarnazione soltanto quando eventualmente si ha una rinascita nella carne. Ma secondo il concetto di Buddha questo continuum mentale può manifestarsi in diverse forme. Anche forme che non prevedono un corpo materiale. Qui non c'è carne e quindi il termine reincarnazione non c'è. Si può usare il termine rinascita, potrebbe essere come trasformazione o il termine rimanifestazione. Ma il concetto di fondo è che è qualcosa che fondamentalmente non è mai nato, è in continua e perenne trasformazione e non finirà mai. Non finirà mai, nel senso che quando si uscirà, diciamo così, quando questo continuo mentale, diciamo così, avrà raggiunto un livello di consapevolezza alto che finora non è stato raggiunto, cioè l'illuminazione si estinguerà, cioè non avrà più la necessità di rimanifestarsi in questo modo e diventerà parte, potremmo definire, del tutto, del nulla. Comunque è un qualcosa che trascende veramente la nostra essenza. Ci sono dei, potremmo definirli, questi continuo mentali evoluti, che hanno già raggiunto un grado di evoluzione alta, che possono decidere di reincarnarsi, in questo caso in quello che accade ad esempio con quelli che nel Tibet chiamano i Tulku. Cioè che da un maestro, diciamo un maestro che muore, si reincarna in un bambino specifico, chi ha già queste caratteristiche manifestate, le qualità del maestro passano di vita in vita. Ma questo vale per tutti, soltanto che lì viene in modo consapevole, cioè le qualità profonde che noi abbiamo, che spesso neanche conosciamo e che spesso non si sono neanche manifestate, passano di vita in vita. L'unica cosa di cui dovremmo preoccuparci è quello di migliorare, eliminare quelli che sono appunto i veleni mentali e curare le qualità. Cioè il Buddha dice se vuoi essere felice devi sviluppare più amore, devi sviluppare più amore per te stesso e amore per gli altri, eliminare i veleni mentali, eliminare gli attaccamenti ed eliminare la rabbia fondamentalmente. Questo è quanto, diciamo così, va fatto per poter, diciamo, dare un'impronta profonda, però va fatto in modo profondo, non va fatto in modo superficiale, perché tutto quello che viene fatto in modo superficiale, cioè dalla nostra mente, non scende in profondità, si perde. Come dire, se uno diventa un massimo esperto di matematica, per dire, non è che quello che si, come dire, questo continuo mentale, nel continuo mentale la conoscenza della matematica non passa e quindi questo continuo mentale, questa conoscenza della matematica si perde. Cioè non è che si perde in senso generale, nel senso che quello che ha fatto questa persona in realtà darà i suoi frutti, perché quello che ha fatto questa persona con le sue conoscenze matematiche, magari le ha insegnate, magari ha fatto delle cose, andrà, andrà, darà i suoi frutti, quindi ci sarà anche un continuum di queste conoscenze, ma attraverso, anche qua, potremmo definire attraverso altre persone, attraverso altre situazioni, quindi il concetto di karma, tutte le azioni che noi facciamo in qualche modo hanno delle conseguenze, sono dei semi che hanno delle conseguenze. Quindi potremmo dire che la reincarnazione di una conoscenza uno ce l'ha quando la trasferisce agli altri e questa conoscenza variando va a variare, quindi però noi siamo abituati, è il nostro attaccamento alla materialità, a pensare che noi stessi, diciamo, ci reincarniamo in un'altra situazione, quindi avremo, sarà sempre ciò che noi pensiamo essere noi stessi che si rimanifesterà, prenderà vita in un altro corpo, insomma, come dire, io mi cambio d'abito, sono sempre io, ma mi cambio l'abito. E invece non è così proprio, cioè è un qualcosa di più profondo, sono i semi profondi che si trasferiscono e che prendono altre forme, che non è detto siano forme di carne, potrebbero essere forme anche diverse. Questo è un po' più difficile da accettare, nel senso che si perde un po' il concetto di individualità, però l'individualità è proprio il concetto di attaccamento, che è una delle cose che dovremmo imparare a eliminare per essere felici. Bene, per questo video è tutto, lasciate i commenti qua sotto, iscrivetevi al canale, mettete un like. Ciao!